Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo video vedremo di calciomercato Come detto dal titolo Cavani potrebbe ritornare a Napoli Questa notizia non è sicura Però ci sta una piccola possibilità che Cavani potrebbe ritornare a Napoli Perché lui sarebbe andato a San Germain E se non erro Praticamente I suoi figli stanno a Napoli Quindi lui potrebbe ritornare a Napoli Infatti già dal messaggio che ha detto Cavani a Napoli O degli auguri Già da questo messaggio si può intuire che Cavani È comunque un giocatore che è rimasto affezionato a questa città Quindi c'è una possibilità che Cavani potrebbe ritornare a Napoli Quindi secondo me Se Cavani torna e il Napoli fa un attacco Link Cavani Possono fare un attacco Uno dei più forti del campionato Spero che vi sia piaciuto Iscriviti al canale Mettete un like Mettete un like anche alla pagina Facebook Ciao 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 Ciao